ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un altro episodio dedicato ai vostri video ed eccoci qua con un altro simpatico episodio dedicato alle vostre collezioni di orologi ossia a come voi avete deciso di muovervi all'interno di questo simpatico hobby come direbbe mike buongiorno degli orologi no non dell'orologeria orologeria è un termine un pochino diciamo più grande molto più grande di me non ho la pretesa di parlare di orologeria anche se ogni tanto qualche scappatella nel campo tecnico la si fa perché divulgo non faccio altro che studiare e riportare qua ma il mio canale parla di orologi di orologi e di persone le persone che sono dietro agli orologi in questo caso voi che partecipate come si fa a partecipare un bel video fatto in orizzontale che duri al massimo sette minuti sette otto non esageriamo spigliato diretto conciso con tutte le cose al suo posto e poi me lo inviate via me che vedete qua sopra in sovra impressione come si suol dire come fare e poi io riprendo visione insieme a voi e ci facciamo un po una cultura generale sugli orologi che possono essere quelli da 50 euro come quelli da 50 mila euro ok l'orologio del giorno mi stavo dimenticando di mostrarvelo oggi è una chicca una chicca nel senso che è un po che non lo faccio vedere è il mio bellissimo omega constellation 39 mm di diametro cassa calibro in house by omega il classico 8900 con scappamento coassiale il suo bellissimo quadrante con il datario a ore 6 nero è il classico orologio con bracciale integrato che non prende ispirazione da nessuno se non da se stesso dalle sue dalle sue evoluzioni negli anni no lo conosciamo tutti negli anni 70 80 c'erano un certo tipo di constellation questo è un restyling moderno l'ho preso nel 2020 questo nuovo di pacca mio per me per sempre come si suol dire passiamo subito al primo video ciao davide ciao giorgio ed alessandro ciao è solo un annetto che ci siamo avvicinati al mondo dell'orologeria e ci faceva piacere condividere con te la nostra piccola collezione ma grazie io come vedi mi sono attrezzata con i appunti dettati da mio marito che è più ferrato di mai materia e lui invece farà il video ti mostrerà gli orologi ma come siete organizzati appuntini da una parte orologi da quell'altra borsa chiaramente no si vede lo spirito femminile le borse per le per le donne le borse le scarpe sono come per noi gli orologi cioè ne vorrebbero a bizzeffa da riempire le stanze per poi fare cosa non si sa è però è uguale gli orologi per gli uomini e lui vitton facciamo anche un po di pubblicità tanto ne hanno bisogno stiguano e poi anche due bei calici flute con dentro qualcosa per brindare siete già un po brilli da si parte va quindi cominciamo è una collezione mista in cui sono orologi e batteria ed altri meccanici comincio con i quarzoni quindi con il primo orologio che è un citizen ecodrive al titanio risalente ai primi anni del 2000 che abbiamo trovato in ottime condizioni quindi preso per prova per curiosità curiosità per il materiale e curiosità per provare l'ecodrive solare quindi era un peccato lasciarlo lì e l'abbiamo preso proprio per provare bravi il secondo invece che ti presento è un emito jazz master al quarzo è un orologio a batteria tranquillo per essere indossato tranquillamente con un abito maschile nelle occasioni formali e fare sempre la propria figura sì però non dovete avvicinare l'orologio alla fotocamera al telefono quello che ha l'obiettivo perché non è che più lo avvicini più si vede meglio a un certo punto va fuori fuoco perde il fuoco c'è una distanza minima da tenere vabbè speriamo che migliori il terzo orologio in realtà è un secondo ricordo ed è qui scatta il cioffecca alert è un braid senza pretese ma no però perché è un ricordo va bene quarto è un orologio che quasi poco più di un gadget ma visto e piaciuto era limited edition watch omega quindi questo è il jupiter l'ho preso io durante rientro da un viaggio di lavoro intercontinentale che era in scalo a parigi a char de gaulle ho trovato il negozio visto piaciuto comprato so che a te non piacerà ma a me faceva piacere averlo proprio come gadget da tutti i giorni contentate quinto è un g shock un orologio proprio da battaglia indistruttibile però perfetto per la piscina d'estate noi ci alleniamo in piscina d'estate e questo assolutamente è adatto chiudiamo poi con gli orologi a batteria con il mio con l'emito cacchinavi scuba bianco che è un everyday watch che indosso volentieri che come vedi oggi ho al mio polso brava passiamo ora agli automatici quindi al primo che è un Perseo un orologio italiano a nostro parere intramontabile gli abbiamo preso un cinturino nuovo quindi per ridargli una seconda gioventù e quindi questo è il primo automatico bellino bravi c'è la data quindi non è delle ferrovie assegnato il secondo che ti presentiamo è il mio Tudor a carica manuale in cassa Rolex oddio come pronunci Tudor te non lo pronuncia nessuno proprio a me mi viene da il cuore brava brava continua così è un orologio vintage meraviglioso che porto proprio con tanto piacere le occasioni un po' più eleganti e anche perché si abbina perfettamente ai gioielli in oro giallo e sai che per noi donne insomma è importante creare questo tipo di combinazione è decisamente il mio preferito brava e segue il bell Omega Constellation Jungle wow l'orologio che mio marito indossa in coppia con il mio Tudor appunto che trovo estremamente elegante e facile da indossare anche se la tecnologia di cui dispone è un po' obsoleta vabbè ma seguiamo con un classicissimo Hamilton Cacchi Field Day-Date automatico in acciaio un everyday watch che non ti abbandona mai ma vai però se li mettete vicini porco Giuda lascene lontano Cacchi King e segue la croce delizia della nostra collezione vai un orologio molto discusso Rolex Oyster 36 mm verde un orologio tanto desiderato ma è super antipatico da avere e da ordinare soprattutto a volte sarebbe meglio andare dai reseller piuttosto che doversi ricoprire d'oro e accede per accedere a quella agognata lista dei venditori ufficiali Ai 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 abbiamo una testimonianza diretta del fatto che gli amici o perlomeno il rivenditore al quale ti sei andata tu no hai dovuto spendere dei soldi in gioielli prima di poter avere l'orologio siamo al limite del ricatto dell'estorsione parole grosse no però voglio dire però intanto lo apriamo e l'ultimo arrivato in casa l'ultimo bimbo il nostro Oris Williams Formula 1 è un orologio fatto appunto per il team Formula 1 Williams semplicemente bello non comune con il fondello a vista e dall'altissima qualità costruttiva proprio bello e chiudiamo che non possiamo esimerci dal Ciofeca Alert perciò chiudiamo con questo lo swatch Irony Date te lo devi proprio beccare invece è bellino che Ciofeca Alert è bellino bravi noi abbiamo terminato per il momento spero che la nostra collezione ti sia piaciuta alla tua salute ciao e grazie ciao spaccato tutto ah beh 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 bella bella simpatico video simpatico video vedete come si può fare anche un video con leggerezza no con intrattenimento e devo dire che all'inizio quando ho visto la scenografia no Louis Vuitton i bicchierini ho detto ora questi fami sfornano una serie di orologi da 100.000 euro uno dietro l'altro e ci tocca dargli tutti i top anzi non ne ho dati di top perché mi sono dimenticato ero preso dalla soave voce della ragazza invece no c'è una collezione di orologi umana alla portata di tutti diciamo di tutti sì di tutti quelli che hanno voglia di spendere soldi in orologi mettiamola così è anche carina no Hamilton Oris Rolex Oyster Perpetual da 36 addirittura verde non mi piace il quadrante verde dell'Oyster Perpetual non mi piace è uno di quelli Rolex l'Oyster Perpetual che mi piacerebbe avere ok quello da 39 che facevano ora è uscito quello da 41 che in realtà non è 41 ma è 40 non l'ho mai provato però poi quando sono sempre lì per dire ma questo qua potrebbe entrare nella mia collezione faccio uno sforzo mi prendo l'Oyster Perpetual o 39 o 41 poi in realtà è sempre lo stesso orologio degli altri due che ho ho il Dayjust con Ghiera Zigrinata Jubilee quello che vuoi e l'Explorer è la cassa è sempre fatta così e il quadrante è sempre fatto così cioè è come cambiare un po' gli ingredienti ma sono sempre gli stessi orologi si fa un po' fatica no ora io con tra l'Explorer 1 e il Dayjust 41 va bene dai sono un po' diversi sono diversi quindi posso mettere uno e l'altro ti vai a prendere l'Oyster Perpetual va a finire lì in mezzo proprio tra quelli lì non è escluso che un giorno lo prenda però purtroppo altri Rolex non è che mi fanno impazzire tanto non è che sbavo dietro a un Daytona o un Submariner o altri modelli faccio fatica faccio fatica peccato va bene dai prossimo video ciao Davide ciao a tutti ciao iniziamo rapidamente con gli orologi della mia infanzia il mio primo orologio un Flick Flack era un bambino è ancora funzionante bravo questo è un Casio ATC 1000 era di mio padre mio padre c'è ancora ma io l'ho rubato anno 94 lui faceva parte del servizio glaciologico lombardo addirittura e andava a controllare lo stato dei ghiacciai negli anni 90 questo con barometro altimetro temperatura e bussola era molto utile per loro molto utile per loro questo qua era per loro il classico tool watch quello che oggi ci sforziamo di cercare tra gli orologi automatici automatici fighi no? questo è un tool watch tutte le scusette ce le inventiamo il vero tool watch è quel cattafalco fatto male brutto come il peccato che ha tutte le funzioni del mondo è indistruttibile è affidabile il tool watch eccolo lì compratevi quello lì adesso altro che il zin tutto figone quello lì quello lì sempre di mio padre sempre anni 90 un sector però un sector di quelli seri è un 950 full titanium guarda io devo dirti che sto orologio qua mi piace un casino già l'ho visto quando si muove nel movimento del bracciale quando l'hai tirato fuori dà sensazione di qualità così a vista pur essendo un sector diciamo così che muove al giorno d'oggi fra un po' sono ciofeche diciamo quelli nuovi si fra un po' sono ciofeche questo qua lo vedo veramente come carro armato pur essendo il titanio che non mi piace il titanio pur essendo un orologio che paga pegno agli anni 90 lo stile è quello che poi adesso per noi paga pegno è come le automobili quelle degli anni 90 dei primi anni 2000 le vediamo brutte e vecchie aspetta che passano altri 10 anni poi le vedremo come vintage cambiamo e quindi ci piaceranno lo stesso a questi bello 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 mi sono un po' perso nei discorsi ma bello va giù 7750 300 metri e particolarità di questo orologio pagato un milione 850 mila lire ai tempi è che era talmente tanto ambito che si trovavano falsi insieme ai rolex fasulli c'erano questi e tutt'oggi online la maggior parte di quelli in vendita sono dei fake parlando di fake ma non è un fake archenti le minghe il daytona può ben leggere questo è stato un orologio creato dalla gioielleria di milano archenti negli anni 90 per prendere in giro tutti quelli che desideravano il daytona che iniziava a essere di moda e comprato da gente che non sapeva neanche cosa fosse un rolex patacca è più raro del rolex adesso patacca patacca si cioè ciofecona si però loro l'hanno fatto capito proprio per scherzo le minghe al daytona sopra è come se io ci scrivesse ciofeca alert poi lo gioco i soldini se li saranno guadagnati non lo fai per scherzo per la gloria lo fai per business i soldi ce li avranno guadagnati quindi va bene però è uno scherzo un gioco una presa in giro quindi non mi sento nemmeno di accusarli più di tanto è uno scherzo un gioco è diverso dai marchi che ci sono al giorno d'oggi che fanno le copie degli orologi solamente per farteli sembrare più possibile vicino a quello vero a quello reale a quello originale in modo che ti senti appagato ad avere quella forma quel design al polso pur non avendo quell'orologio è più che altro perché tutti poi lo riconoscono capito tutti ti riconoscono il design al polso e da lontano fai anche la figura di quello che cosa sarà cosa non sarà capito questo qua è uno scherzo sempre di mio padre e sempre di un orologio che di un marchio che purtroppo è andato un po' Princeps in giù Princeps le mani a 5100 laminato in oro sempre anni 90 con i sub dial in madre perla dopo sub dial ora hai fatto tanta fatica a dire sub in inglese e poi dici dial in italiano sub dial oppure sub dial sub dial cazzo ma o qualche cioffechina dieci anni fa mi sono appassionato agli orologi in modo un po' più serio ed è arrivato la mia prima cassa slim 1007 preso su Amazon a un prezzo che adesso sarebbe ridicolo un orologio che io amo alla follia eh oh avendo questo in tempi più recenti sono andato a cercarmi un 6309 che è un spontanato questo qui è dell'87 e io sono dell'87 bello quadrante giapponese arriva dal mercato interno lo voglio anch'io non potevo lasciarlo lì lo voglio anch'io ma avendo questi due ovviamente sono andato a poi a cercarmi anche il 7200 bravo il 7200 che secondo me è quello con la cassa migliore come robustezza ma avendo cassa slim del 6309 non potevo non prendere anche un tartol ora qua si vede la passione che muove una persona non è che uno compra gli orologi così tanto per far numero il numero fa piacere perché siamo tutti malati però hai visto ci ha messo una certa coerenza una storia ha fatto un filo logico nelle sue scelte sempre riferite a seigo che ti fa venire voglia a te che stai guardando di farlo anche te di andare a scegliere tutti quei seichini interessanti anno dopo anno metterteli lì guardarteli fare come con i lego no? o come con le macchinine come le figurine da collezione te li metti lì poi te li guardi questo qua dell'87 del 90 lui sta facendo così Tartol 6309 che avevo già moderno un batman non chiamateli batman perché dovete dovete insultare un seico chiamandolo batman ma che cosa c'entra batman è un nomignolo che hanno dato gli imbecilli lo chiamo anch'io così ma gli imbecilli si divertono a dare i nomignoli a tutti i rolex che escono in base ai colori della guerra gli danno un nome cercano di portarlo avanti e noi ci caschiamo a darlo anche agli altri orologi che sono più onesti più che non hanno bisogno non ha bisogno di essere chiamato batman io in realtà non lo considero batman perché per me batman era grigio e nero con i simboli gialli stiamo a disquisire adesso non mi dà proprio l'idea di essere batman disquisiamo su batman usciti di seco 5 gmt mi piaceva il contrasto dei colori fatto bene e altri due seco 5 certo però moddati da me qui c'è ghiera e vetro zaffero e l'anello interno che non mi ricordo come si chiama quindi non lo dirò e qui solo la ghiera l'inserto ghiera gli dà un tocco vintage che non mi dispiace insieme al turtle guarda solitamente condanno nel senso lato del termine le modifiche agli orologi poi ci si accanisce specie sui seco a modificarli perché costano poco no di solito condanno ma visto la tua collezione che ce n'hai a sfare di seco te la passo nel senso che su un paio di seco 5 ti puoi anche divertire a modificarli e a snaturarli senza che io debba per forza accusarti di essere rispettoso no non lo sei perché hai rispetto per il seco perché gli stai collezionando quindi moderno avevo preso anche il samurai save the ocean 2019 bello bello orologio che io adoro come colori adoro il quadrante ma l'orologio seco che io adoro di più eccolo qua ridizione del 62 mass top comprato tenuto ho dato il top perché ora io non so quando andrà in onda questo video però ho intenzione di prenderlo anch'io ho intenzione di prenderlo anch'io sono indeciso perché io quando mi metto lì davanti a guardare questi cavoli di di seco 62 mass la riedizione ce ne sono una marea spb 147 spb 149 spb 239 poi c'è quello bianco quello azzurro quello con i riflessi rossi scuri cioè non ci capisco più niente faccio fatica a rinvenirmi sono arrivata alla conclusione che forse questo qua così più neutro più grigio senza accenti dorati senza sfumature calde forse quello che ha più senso perché come un orologio esce nuovo dalla fabbrica è così è normale non ha no però ora non so se l'ho già quando guardate questo video non so se l'ho già preso l'ho già presentato oppure se lo devo ancora prendere e lo presenterò e se lo prenderò veramente perché ce ne sono anche altri seco che mi piacciono vabbè non dovevo dire questi spoiler vabbè me lo godo come giusto che sia passando a orologi con una storia orient questo è un nos mi è stato regalato per il matrimonio da un mio ex collega che è venuto a mancare pochi mesi fa mi spiace all'età di 94 anni ah beh allora se l'è vissuta e gli è stato regalato direttamente dall'importatore dei tempi della orient lui era un grossissimo commerciante d'auto di milano io sono commerciante d'auto e aveva clienti decisamente importanti questo è il solascito per me un cliente invece mi ha regalato lui Ernest Borel condizioni meravigliose ho detto bello ma non so questo mi lo ha regalato per avergli rifatto un tavolo di suo padre lui aveva un tavolo da sarto che era di suo padre conciato mi ha chiesto di sistemarglielo non è il mio lavoro ma mi diletto io l'ho sistemato e lui come ringraziamento mi ha donato questo Ernest Borel io ho detto bello perché è bello però non so assolutamente cosa sia Ernest Borel ma è la prima volta che la sento in vita mia non lo so aiutatemi voi che siete a casa e non riesco a capire se quell'orologio lì è un vintage o è moderno con lo stile vintage hai capito non lo so potete dirmi è dell'anno X almeno io mi facevo un'idea un po' non lo so in tema di lavoro prima di fare il commerciante io ho lavorato per un'azienda che faceva produceva installava usili per ipovedenti e non vedenti e quindi in funzione di quello come ricordo mi sono preso un racchetta braille si apre gli indici hanno il braille e le lancette sono belle toste fatte apposta per resistere alle dita è quello che mi domandavo io non ho mai avuto uno per le mani non l'ho mai aperto e toccato quindi mi domandavo ma quando uno si mette lì a tastare quelle lancette lì che a fine fanno si spostano cioè te lo tocchi cambia si sposta e pensi che sia un orario ah sì è quell'ora lì no ma l'hai spostato che quindi che micchia sta leggendo invece sono toste devono essere anche belle toste a parte che quando uno sa che andrà a mettere il ditino lì fare un po' di attenzione no un po' di vabbè però interessante vintage sempre seco 61-39 vai orologio che io adoro me lo sono cercato in condizioni pari al nuovo full set molto fortunato sei anche in grado di capire se è buono tutto sempre in casa seico un sarb preso in tempino non sospetti felicissimo perché è molto molto bello è fatto molto bene molto molto poi arriva un alpinist questo qui non l'ho comprato io me l'ha regalato mia moglie come promessa di matrimonio io gliel'avevo fatto vedere lei io gliel'avevo fatto vedere lo dice anche Rocco Siffredi non so come di orologi non capisce assolutamente niente è andata a riuscire buonanotte è riuscita a recuperare il modello la referenza l'ha fatto incidere con la data non del nostro matrimonio perché era una promessa ma di quando ci siamo conosciuti me l'ha regalato sposati poi parlando sempre di Seiko e qua concludiamo andiamo con i vintage cosa sono? mi ero appassionato del Longin 30L ma poi ho visto che ce l'hanno tutti hai capito questa cosa a me non fa impazzire e vabbè e ho recuperato un bellissimo Seiko Champion mi diamo un top totale in condizioni meravigliose come Dresswatch lo adoro e poi tre giapponesini Lord Marvel Lordmatic arrivati direttamente dal Giappone entrambi in condizioni eccellenti se li compro li cerco perfetti perché mi piacciono perfetti e un meraviglioso a parer mio King Seiko anche questo in condizioni ottimali i bracciali non sono originali ma io sono amante dei bracciali e quindi metto su i bracciali a tutti gli orologi non lo chiuderò mai quindi chiuderò il video tanti saluti grazie ciao 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 tanti saluti veramente una bella collezione veramente una bella collezione con dei pezzi ricercati anche questi ultimi vintage qua del Seiko ecco volevo il 30L e poi ce l'hanno tutti sono andato su il Seiko ma è fatto bene da un certo punto di vista averci un Longin 30L no? non è che ha senso io per esempio sto iniziando una collezione di Longin vintage e ognuno di quelli che trovo interessanti lo metto lì mi sto facendo un percorso un po' come stai facendo te e tu avendo scelto i Seiko vintage ti stai facendo un percorso anche con i Seiko vintage cioè ci metti anche i diver che hai mostrato all'inizio c'è tutta una serie di roba che puoi continuare ma lì vai all'infinito con i Seiko già al giorno d'oggi producono migliaia di referenze che ti perdi figurati se vai a contare tutte quelle negli anni però tanto cominci a prendere quelli che ti capitano interessanti o quelli più rappresentanti negativi ecco fatto che ti fai una bella collezione complimenti non ho nulla da dire sono sicuro che piacerà anche agli amici che stanno guardando perché non ti si può dire niente bravo buonasera Davide sono Francesco da Bologna e ho 28 anni per prima cosa voglio ringraziarti perché grazie al tuo canale scoperto ormai circa tre anni fa ho potuto continuare a seguire sempre con maggiore interesse quella che è la mia passione sin da bambino cioè la passione per gli orologi grande questo interesse per gli orologi mi è stato tramandato da mio nonno materno al quale devo molto e al quale è legata buona parte della mia collezione inizio con il mostrarti questo orologio da tasca ereditato da mio nonno materno bello è un orologio da tasca in oro rosa non so molto di questo orologio al quale tra l'altro mancano vengo io diversi componenti tra cui la catenina sicuramente e il coperchio e il coperchio perché qui vedo se il telefono metto a fuoco qui vedo una cerniera alla quale però non è collegato nulla l'orologio non cammina devo farlo revisionare altro orologio ereditato da mio nonno materno è un bulova al quarzo con cassa in oro giallo questo qui non lo indosso molto spesso soltanto magari quando ho qualche occasione particolare più che altro perché lo trovo seppur per le sue condizioni dimensioni scusami contenute lo trovo abbastanza importante per il materiale di cui è fatto quindi diciamo che non ho molte occasioni per cui indossarlo però lo custodisco con molto affetto ma sinceramente la giustificazione di non avere occasioni per indossare un orologio a parer mio non vale te le trovi le occasioni anche semplicemente esci per andare anche al cinema oppure da qualsiasi parte chiaramente non in una situazione ultra sportiva indossi quello lì e fai la tua bella figura ora è quarzo è un bulova a me non è che mi fanno un pazzillo di orologio a quarzo però questo qua è il suo perché bello sottile così d'oro con un quadrante bianco leggibile fine stretto secondo me in determinate occasioni ci sta anche bene fai anche la tua bella figura anche non so che lavoro fai ma se lavori in ufficio per esempio secondo me sta benissimo le occasioni vanno inventate ti so al quarzo peccato ereditato sempre da mio nonno materno questo qui lo indosso molto frequentemente aveva un cinturino in pelle marrone l'ho sostituito con questo cinturino in tessuto rosso quindi l'ho fatto un po' mio sì è uno degli orologi che mio nonno materno indossava più spesso e quindi lo indosso allora hai fatto un bel lavoro perché perché è un orologio che ha un aspetto sportivo con questa cassa così spigolosa a tonno a cuscino però spigolosa anche originale volendo con la sfera dei secondi le scritte rosse ecco questo cinturino così tecnico diciamo di questo colore qua me lo rende ancora più sportivo proprio veramente sembra quasi un orologio contemporaneo hai fatto bene hai fatto una bella scelta sto davvero con molto molto orgoglio e molto piacere certo altro tesso al quarzo tesso PRC200 regalo della cresima da parte di mio nonno materno anche questo qui mi piace molto perché è un orologio sportivo che però comunque sia ha il suo peso e quindi si fa sentire al polso e mi piace per questo suo aspetto va bene un aspetto ce l'ha dai tripletta poi sempre di orologi al quarzo dai che quarzo? swatch sono legato a questo orologio dal punto di vista affettivo perché l'ho acquistato con i miei genitori durante una vacanza a Berlino non cammina più lo tengo per motivi affettivi qui parte il Ciofeca Alert è un Nixon regalatomi da un amico di famiglia per la laurea triennale mi piace per il suo quadrante di questa tonalità azzurra molto particolare lo metto abbastanza spesso quando vado al lavoro nulla di che e metti anzi bullo vino no? Timex Expedition c'ho anch'io questo orologio sono molto legato lo porto con me in tutti i miei viaggi e talvolta lo porto anche al lavoro bravo questo orologio classica diciamo ha un valore affettivo molto alto per me tutti perché ha una storia particolare con un mio amico uno dei miei amici carissimi che me lo ha venduto e lo indosso anche questo con molto piacere aspettavo e poi è morto no? meno male orologio ereditato da mio nonno paterno eh uno Zenith sporto a carica manuale da 28.800 alternanze orarie bravo bracciale originale marchiato Zenith questo orologio ha una storia un po' particolare perché cercavo un mazzo di chiavi per l'automobile che non partiva e cercando nei cassetti ho trovato per puro caso questo orologio qui neanche a ancora una volta la famosa leggenda degli orologi nei cassetti che tutti trovano tutti trovano uno cerca non va a moto la macchina cerco le chiavi già lì che te le sei messe in un punto quelle di scorta vanno sempre messe in bella vista sapere dove sono già lì hai sbagliato vai a cercare nei cassetti vai a cercare nei cassetti e ti trovi lo Zenith uno Zenith esporto vintage così dai nulla va bene viva Babbo Natale dirlo l'ho fatto mio e l'ho fatto revisionare qui a Bologna e ora lo indosso con estremo piacere ed estremo orgoglio estremo piacere Hamilton Intramatic a carica automatica orologio regalatomi dai miei genitori per la mia laurea magistrale a dicembre 2009 bello questo come regalo bello è un pezzo fantastico ci sono molto affezionato e lo indosso spessissimo lo alterno il suo cinturino in pelle lo alterno con questo cinturino maglia milanese il cinturino in pelle lo utilizzo più che altro in inverno mentre il bracciale maglia milano magari fa un po' più fighetto lo uso in estate ce l'ho anch'io questo qua e c'è anche quindi il bracciale maglia milanese e c'è anche il long jean skin diver che c'è il bracciale maglia milanese così in entrambi evito di utilizzarlo ma non perché non mi piace anzi mi piace perché secondo me i cinturini in questo caso qua ci sta meglio però ogni tanto lo tiro fuori e ci metto anche io questo maglia milanese soprattutto nello skin diver che d'estate lo utilizzo con il nato arancione è la morte sua proprio al polso fa una figurona ecco magari d'inverno ci metto il maglia milanese che è un pochino più lucicante gli dà un po' un aspetto un po' più da come dici te fighetto no? il primo orologio è stato con i risparmi del lavoro nomos club carica automatica con movimento in house neomatic questo te lo faccio vedere ha il fondello aperto e qualitativamente parlando è un orologio superbo le lavorazioni del movimento sono impressionanti per il prezzo che costava bella assai ora sta aumentando di prezzo aumenta tutto e a posteriori ho fatto davvero un gran bell'affare secondo me certo questo l'ho reso ancora più mio facendoci una piccola incisione sul retro per ricordarmi del mio primo anno di lavoro e dei sacrifici che ho fatto per acquistarlo bravo ultimo vai ultimo acquisto è il pezzo più importante della mia collezione economicamente parlando brightling super ocean che al pari del nomos non si vede tanto su internet e sul tuo canale vero è un pezzo al quale sono follemente affezionato allora non si vede tanto questo orologio qua perché io ho recensito il brightling super ocean heritage che è a più appeal così di botto così lo vedi con quel quadrante soleil bella quella ghiera bracciale maglia milanese questo qua quando è uscito recentemente è uscito ho storto un po' un po' il naso ha fatto così sì ma insomma boh non lo so non mi fa impazzire ora più lo guardo più lo vedo e più mi piace trovo che siamo veramente bello perché perché completamente ha una identità tutta sua cioè a volte per avere una personalità un oggetto deve andare anche un po' fuori dalle righe come diceva l'apo lui ci stava dentro le righe però non dava fuori e questo qua lo è cioè è un orologio che spicca per originalità per particolarità per design e piano piano mi sta piacendo cioè io a volte dico che ci sono degli orologi che non mi piacciono che poi nel tempo iniziano a piacermi anche i panerae stanno iniziando a piacermi ragazzi occhio cioè si cambia che cosa volete fatemene una colpa perché l'ho acquistato dopo tanti sacrifici per un importante traguardo lavorativo bello da inutile dire che qualitativamente parlando è un orologio superlativo ed è il classico esempio di orologio fatto bene assemblato in modo superlativo lavorazioni meccaniche impeccabili ma movimento di terze parti a me non interessa l'orologio fa paura è bellissimo anche io ce l'ho braggio 42 mm lo indosso in quest'ultimo periodo molto spesso è l'ultimo arrivato e ci sta che voglia provarlo bravo fammi sapere cosa ne pensi e vorrei da parte tua un consiglio su un futuro acquisto voglio espandere la collezione con un'ora del mondo tra il Nomos Zurich e il Frederic Constant iLife War Timer quale mi consigli un saluto un saluto e cosa sono non sono qua apposta per consigliare cioè ti posso suggerire ti posso suggerire ma non suggerisco perché sono due orologi completamente differenti uno dall'altro allora il Nomos è veramente minimal come tutta la collezione il catalogo di Nomos è veramente minimal e l'altro invece è veramente classico anche direi quasi barocco con quei con quei disegni con quelle raffigurazioni che ha sul quadrante quindi sono veramente differenti stilisticamente parlando a livello di qualità stiamo parlando di due orologi che utilizzano il calibro in house quindi su entrambi vai a scegliere un orologio che ti dà quel valore aggiunto al calibro in house ok il prezzo è del 4.800 per il Nomos e 4.200 per il Federico Stant fai te scegli te quello che preferisci esteticamente perché quando si arriva a parlare poi di di calibri di tecnica ognuno ha il suo no un Nomos ce l'hai già però se vuoi raddoppiare con Nomos vai su quello se vuoi cambiare marchio anche perché ogni tanto uno nella collezione vuole cambiare marchio avere un rappresentante di determinati marchi prendi Federico Stant poi detto questo anche te hai il Breitling l'ultimo il Diver che hai presentato che ha il calibro di fornitura come io ho il Breitling GMT Cronomat che ha il calibro 28.93 cioè di fronte a un bello orologio io non mi fermo alla tipologia di calibro non mi interessa cioè sono dei punti dei compromessi da raggiungere no se quell'orologio ti piace tanto però ha una determinata cosa quella determinata cosa è talmente importante da inficiare l'interesse verso quell'orologio è un impedimento all'acquisto ognuno deve ragionare con la sua testolina se quella cosa lì non gli va giù o gli può andare giù a me per esempio se il calibro di fornitura mi può andare giù non è un problema non è il caso di questi due orologi che come ti ho detto hanno il calibro in house scegli te io ti ho semplicemente messo di fronte le due differenze e come stanno nella tua collezione due Nomos è un Nomos e un Frederico Stant per il resto la collezione è bellissima a parte la prima parte che è tutta dedicata ci sono affezionato molto tutta la prima parte poi arrivi agli orologi come l'intramatic il brightling che sono che hai scelto te che gli hai scelti perché volevi quell'orologio lì comunque promosso sei promosso non ti preoccupare non ti rimando a settembre prossimo video ciao Davide sono Alessandro dalla provincia di Firenze solamente qualche cosa c'hai i sassi attaccati al braccio lì al posto del bracciale c'hai dei grotoni grossi così mese che sono entrato in questa questa passione grazie al tuo canale in realtà fino a qualche fino a qualche mese fa per me gli orologi erano quelli a batteria e Rolex erano gli unici che conoscevo poi ho cominciato ad approfondire un po' la cosa insomma mi sono incuriosito ho detto magari ci deve essere altro nel mondo dell'orologeria oltre a Rolex e poco più che conoscevo e ho iniziato a fare un po' di approfondimenti mi sono apparsi i tuoi video e quindi ora è partita la scena andiamo all'orologio allora questo è uno dei primi che ho acquistato in realtà è un classico Casio a batteria ho cambiato il bracciale ho messo un bracciale giubili mi piace portarlo devo dire ultimamente entrando sempre di più in questo mondo mi sembra veramente troppo troppo copia del Rolex Tiffany quindi lo porto sempre meno volentieri però mi piace mi piace averlo mi fa pensare al percorso riguardandolo ma ora indossare questo tipo di orologi qua così no non c'è niente di male per l'amor del cielo potrei indossarlo anch'io però il punto è se c'è qualche orologio che non raggiunge una certa percentuale di soddisfazione è inutile che lo indosso preferisco non comprarlo o darlo via prenderlo per assurdo se mi mettessi il Timex in plastica che ho al quarzo con il cinturino nato elastico proprio 50 euro 40 e mi fermo a parlare con una persona di orologi io glielo mostro con orgoglio glielo mostro con orgoglio cioè questo qua è un Timex al quarzo cioè sistema indiglo è un orologio da battaglia tutti i giorni però così con un caos io così mi sentirei in difficoltà perché non l'ho preso per essere da battaglia l'ho preso perché è bello da vedersi è bello da vedersi ma perché riprende un po' delle altre robe senza avere però il pregio di quelle robe poi ovviamente subito per farti piacere te ne faccio vedere due insieme e questo mi spiace ma ancora non avevo iniziato a seguirti no comunque a parte gli scherzi sono molto soddisfatto l'unico problema insomma del Redentore è che è molto spesso come potete vedere in realtà anche il Ceratung non è che sia sottilissimo però insomma c'è notevole differenza devo dire mi piacciono non sono contrario al marchio secondo me anche seguendo la storia il trascorso che hanno avuto con te secondo me insomma grazie anche ai tuoi appunti hanno fatto passi passi da gigante però comunque sia diciamo che non sono orologi indimenticabili tra i due ovviamente questo dovrebbe essere la punta di diamante il Ceratung che è in ceramica e tungsteno con fondello fondello a vista è un movimento svizzero un sopro insomma di tutto rispetto però ecco niente niente di indimenticabile ti dico questo segnatela Vannamarchi e Donassimento rimangono Vannamarchi e Donassimento anche nel momento in cui smettono di fare le televendite erano così prima e sono così dopo quindi proseguo poi andando sugli orologi che ho iniziato invece ad acquistare da quando ho iniziato a seguirti quindi partiamo dal primo cronografo bello che è uno estrela cosmos carino questo a cui ho cambiato il cinturino perché è quello originale in pelle nera a parte ho scoperto che devo essere un appassionato dei nato perché mi rendono il polso un po' troppo sgraziato vabbè un 18 e mezzo non è un polso grandissimo però i due anellini esterni allargano un po' il polso e non mi piacciono e ho trovato questo bracciale questo cinturino scusami verde che riprende i colori interni del quadrante con queste impunture bianche che riprendono le sfere bravo non è trascurabile però veramente veramente un bel pezzo sì proseguo poi con un vintage perché ovviamente la scimmia passa sempre anche da lì e sono andato su questo su questo long jean che ha un calibro 994 ovviamente l'ho preso da crono 24 ho pagato una cifra anche onesta appena però l'ho indossato mi sono reso conto che prendeva più o meno una mezz'ora 40 minuti al giorno portato in assistenza da casa madre me la sono cavata semplicemente in una revisione bello l'oggetto molto sottile quindi un classico dress watch ha un cabochon qui quindi molto 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 elegante sottile leggero mi piace moltissimo proseguiamo poi con un seco alpinist questo devo dire che avevo visto la tua recensione e mi era piaciuto ma fino a un certo punto ecco non mi sarei mai spinto ad acquistarlo sono arrivato in aeroporto sono entrato nel concessionario seico ho iniziato a provare un po' di questi orologi e mi sono innamorato devo dire che a differenza degli altri degli altri seico ha un bracciale fantastico veramente ben fatto devo dire che uno dei miei orologi preferiti al momento in collezione veramente proporzionato alle dimensioni fondello a vista un po' una cafonata da parte di seco mettere queste scritture sul fondello di vetro le scritture gli si può perdonare le scritture sacre proseguiamo avanti ovviamente vi rendete conto che è tutta influenza puntatori del tempo quindi andiamo su un Marilla Croix Icon da 39 mm questo ho trovato usato sul canale e devo dire bellissimo mi piace da morire versatilissimo perché con i 200 metri di impermeabilità si porta ovunque mi è stato detto tutto il contrario su questo orologio quindi non aggiungo altro andiamo avanti mi do Ocean Star Nero stupendo veramente un orologio che che dà una bellissima sensazione al polso precisissimo fondello sagomato quindi molto meglio rispetto a quelli a quelli trasparenti ovviamente ha questa clasp lucida dove si presta molto alle ai graffi però l'orologio è un orologio di tutto rispetto yes poi come non citare lui ah questo che mi ha accompagnato al raduno devo dire no ma allora te sei uno di quei due pagliaccioni che hanno fatto la foto sei uno di questi due pagliaccioni qua sei mamma mia pensate se quello là vedo il bracciale con i sassolini quindi se quello là a sinistra quello con gli occhiali bravo 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 chi non apprezza il cinturino giallo secondo me può cambiare passione perché non ci ha capito niente bravo che dire citizen promaster full lume cinturino giallo secondo me citizen dovrebbe fare il modello contatore del tempo citizen promaster contatore del tempo perché l'avrai fatto vendere solamente te 5.000 orologi negli ultimi mesi però questo grandissimo orologio grandissima composizione yes e poi andiamo avanti con i miei due pezzi forti in realtà questo è il primo intanto in collezione rolex explorer 2 polar regalato per un successo lavorativo devo dire all'epoca non mi intendevo dell'orologeria appunto che stavo dicendo l'unico marchio che conoscevo era rolex perché è quello diciamo sulla bocca di tutti e è da lì che poi ho voluto approfondire un po' le cose il pezzo è bellissimo precisissimo ovviamente un kosk non mi fa impazzire al polso piuttosto grande è l'ultima referenza del 2022 è semplicemente un grande orologio non gli si può dire niente a gusto mio estetico forse il quadrante nero sarebbe stato meglio ma come si su dire a cavaldonato non si guarda infatti appena mi sono potuto permettere qualcosa di più ponderato sono andato su tutt'altro Lido e sono andato sulla concorrenza Omega eccolo lì C-Master 300 con scappamento coaxiale anche questo qui avevo visto la recensione di Davide ovviamente questo è l'ultima referenza e ha cambiato la lancetta dei secondi mettendo la lancetta lollipop che secondo me gli dà una visibilità maggiore e ha ingrandito leggermente il quadrante senza ingrandire l'orologio un 41 mm portabilissimo stupendo sensazione veramente unica devo dire anche l'idea della clasp che è allargabile d'estate è veramente comodissima e questo fondello a vista è semplicemente fantastico ultimo aspetto nota piuttosto dolente questo suggerimento sempre di davide è un orologio che mi ha fatto impazzire e mi fa tuttora impazzire il problema è che subito dopo aver fatto il primo bianno infiltrazione d'acqua il salle orologio è già pronto con la sua garanzia qua è già pronto per essere portato domani in assistenza e speriamo che torni come nuovo perché effettivamente questo è un bellissimo pezzo sottile leggero quanto basta e poi con questo colore blu scuro che passa quasi quando c'è poca luminosità come ora passa quasi per un blu note o un nero è semplicemente fantastico è tutto ti ringrazio e spero che ci siano altre occasioni per mandarti qualche video con le mie collezioni ciao ciao mi hai bombardato di frasi che adesso non ricordo più quello che volevi dire che mi volevi chiedere collezione bella per l'amor del cielo c'hai tutti orologi degni di nota ma anche di più mi spiace per il 65 che ci sono state delle infiltrazioni d'acqua non so perché non so come non chiedermelo anche il mio va più 12 più 13 ma per me non è un problema è dentro le specifiche e va benissimo così non ho mai pensato nemmeno di aprirlo o farlo regolare mi va benissimo così vedrai che ti tornerai indietro come nuovo poi mi hai chiesto nelle scritte un orologio con budget 5000 e mi come faccio a dirti un orologio con budget 5000 prendi un Tudor ti manca prendi un Tudor un Tudor Black Bay io prenderei il Tudor Black Bay 41 quello con la ghiera rossa che col bracciale a giubili che tutti non lo considerano e secondo me sono le dimensioni giuste perché si chiama Black Bay 41 ma in realtà il diametro a cassa è poco più di 40 mm quindi è perfetto un orologio a 40 mm o poco più diver ma anche se fosse 41 è perfetto non vedo perché bisogna andare per forza su Black Bay 58 da 39 mm cioè questa mania 41 ghiera rossa e poi anche più originale rispetto a quell'altro non si discosta di botto subito così a vista una ghiera rossa non ce l'ha quasi nessuno cioè ce l'hanno tutti però i coronati non ce l'hanno no? questo che volevo dire se no un altro orologio con budget 5000 non lo so io prenderei io prenderei tutti Omega figurati se è nuovo non ci arrivi magari adesso sono aumentati tutti ma un acquaterra di secondo polso seminuovo lo trovi bello l'acquaterra o se no un Brightling un Brightling GMT di Cronomat GMT come il mio con lo sconticino dell'amico lo prendi a 5000 Brightling Cronomat GMT eccolo lì pensaci io ce l'ho mi piace dai mi sembra di aver detto tutto siamo arrivati alla fine erano 4 video ma 4 video lunghi quindi abbiamo occupato un bel po' di spazio nel mio cervello che è piccolino non ci sta tutto capito non posso andare troppo avanti mi ringrazio per essere arrivati fino qua spero vi siano piaciuti i video del presentatore che come al solito sono sempre io e vi ricordo gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love ciao